Mario, mai così tante emozioni in pochi giorni. L'esordio è nazionale, hai festeggiato pure i tuoi 20 anni e adesso sei un giocatore del Manchester City. Quanto sei emozionato? Tanto. E poi è stato un po' un'estate così difficile tra una squadra e l'altra che mi volevano, però io volevo andare al City e adesso che sono qua cercherò di fare cibile per fare bene, per fare quel salto che questa società magari manca e voglio diventare un campione come sempre ho detto. Ritrovi Mancini che ha già detto tante cose belle su di te, le ha sempre dette? Io con lui mi porto speciale perché mi ha lanciato lui nel calcio italiano in Serie A, ha avuto fiducia che vabbè a vedersi così magari uno dice è facile, però non tutti hanno le pari di lanciare un ragazzo di 17 anni in un momento così come eravamo. Mario, che cosa non ti mancherà dell'Italia? è un giornalista, sicuro.